I bambini e i loro diari, allora, problemi, ne ho solo uno, è quello di scoreggiare troppo, con tanto di autoritratto, caro diario, aiuto, mi amano tutti, classica pagina di uno del segno zodiacale leone, se la vitt, il mio sogno, fare figli, chissà se oggi questa bambina è diventata madre, lavoro svolto, ricavo 10 cent, devo ritrovare anch'io il mio diario.